ah ma perchè mi bombardano gli stronzi dei miei compagni di squadra io vado incontri senza chiedere l'incano oh togliuto? no shit vai oh quanti sono? quanti sono? che cazzo è? formiche no no per me che non sono roto in culo cazzo dove vai? ma dove vai? e mo mamma no sei andato in culo porca ma sei un genio bob? ti chiami bob? ci stavate ribattendo? no homo? ecco quello si che homo quello sto deficiente e tu? che fai? guarda lo spettacolo e non metteremo in culo il tuo amico? eccolo dai alla fine c'è riuscito che maniere sono? so let's see what the fuck happens dove sta andando questo? già ho a 5 minuti 5 secondi in gioco già la prima stronzata vedo vedermi mi ha visto e adesso io con calma e pacatezza vado vincule me lo lasciasse fare sto gioco di merda vania vania no no che cazzo stavo mi danno? oh shit vai con my old video card uuuuuu total rectal oppla there was no one ma che cazzo ma cosa? che cazzo? c'è un colpo ma ero ferito o cosa? ho scorsi tra questi due cazzo eh certo perchè vedi uno in moto e gli tira le granate intanto che esplode la granate quello è già andato a fa un culo ma perchè lanci le granate? ai carri coglione le finite? bene adesso posso lavorare non scappare bastardo non scappare bastardo io ne ho fatto un cazzo che cazzo era quella scena ma questo è un cingolo eh? tutto cingolato ma porca puttana che cazzo non attirare l'attenzione non farlo scoprire ti cazzo ma non fai un cazzo mi scemo stoy ritardato ma comunque ci incuavamo tutti perchè sei un deficiente ecco finalmente ti hanno ammazzato dovevano ammazzarti il clima però eccolo là, sto rotto in cuo di merda ma da cazzo guardi ma perché un nab? guardalo qua, non può manco dare e se ne va pure, non può manco dare gli ordini cazzo ci fa in war no, non li ammazzano, li lasciano lì tu fai due passi, eccolo e ti spavano tu dove cazzo sta andando? ma cosa stai facendo? tirando gli stronzi ma sparagli, che cazzo gli rimane a guardarlo dove guardi, dove guardi, bastardo? oh ma, questo gioco riesce a valentare anche con una 780 ti ah, yeah che cazzo sì, ma che palle queste mappe ma quello, ma che cazzo lancia se non c'è nessuno lo vedi il numerino in alto se entra un nemico ma che cazzo spamma ma che problemi ha questa gente ma che cazzo ha preso il Kuro? eh, il Kuro il Kuro, if you don't know if the mob cow for the... se fossi ficcato il dito in culo brutto pezzo di merda ma porca puttana eh beh, certo mica mi posso nascondere ci sono circondato sto rotto in culo camper di merda ah, provo pure sto per sparare in culo ci prova, eh mi vuole moto dove sei? che contracanto eh, sbagliami un altro po' pezzo di merda incapace bastardo ma dove cazzo va sta moto di merda? eh, guardate ne andava fai un affanculo un attimo ah, fai un affanculo oh, ma che cazzo ti riflessi ah, eh mezz'ora che non ho sparato e quello è morto stai cazzo di gambe coglione ok, cazzo ok, cazzo ok, cazzo ok, cazzo ok, cazzo ok, cazzo